bentornati amici smokers in questo video andiamo a parlare dell'english summer flake un tabacco realizzato in collaborazione tra summer gewitt e il dottor stanislav insieme hanno fatto questa edizione limitata ho prodotto quattro trabacchi c'è una versione per ogni stagione praticamente io precedentemente la settimana scorsa ho già recensito il dello springtime flake se vi interessa vi lascio il link della recensione e la descrizione del video se vede il vino salute non si doveva vedere all'inizio questa latta contiene 50 grammi di tabacco in italia ovviamente non si trova non credo sia mai arrivata in europa si trova ancora quindi ha posto in europa di 16 euro un taglio flake per l'appunto da come richiamato dal titolo che vi faccio vedere subito ma come al solito se non l'avete già fatto rivedetevi al canale cliccate la campanella per non perdervi i video che pubblico ogni settimana e se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace che a me servirà tantissimo e a voi non costerà nulla il taglio ve lo faccio vedere sono delle belle fette lunghe di un bel colore tendente allo scuro bene no un'umidità devo dire a differenza dell'altra versione primaverile forse sono stato sfortunato che mi è arrivata praticamente secca qui c'è un'umidità ottimale mi sono rimasti tre fettine che saranno tre cariche ancora ancora è umido ancora lo faccio asciugare un po all'aria quindi questa volta con l'umidità ho trovato molto bene le sensazioni olfattive all'olfatto ha un ottimo profumo i profumi che risaltano che primeggiano da subito sono frutta matura frutta matura un vegetale terra fighi secchi più basso anche fieno tutto insieme devo dire che va veramente veramente un ottimo profumo la combustione anche mi sono trovato bene non ho avuto problemi brucia bene sia caricato a flake interi che sbriciolato ultimamente avevo imparato a caricare il flake intero che lo stavo fumando solo così solo che poi mi sono ricordato dei consigli di simone di sgueos gazzetta che mi diceva io consiglio sempre di provarlo sempre sia sbriciolato che intero il flake in pipa e questa volta mi è sembrato sprigionasse più sapori sbriciolato è la prima volta che mi capita qualche tabacco che fumo così di solito preferisco il flake intero vi lascio anche il suo indirizzo nella descrizione del video andatelo a vedere e iscrivetevi al suo canale i sentori al gusto i sentori al gusto è uno dei pochi casi in cui sono riprodotti fedelmente gli stessi sentori olfattivi quindi io ho ritrovato al gusto sicuramente con note di testa di terra e vegetale questo vegetale verde per poi alternarsi anche con fichi secchi frutta matura e fieno non è proprio sempre uguale la fumata ossia questi sintori tendono ad affacciarsi una volta l'uno una volta l'altro una volta un paio insieme ma ne determina per me comunque una fumata gradevole in più dell'olfatto ci sono questi sentori piccanti che accompagnano quasi tutta la fumata ogni tanto spariscono comunque sempre sempre di fondo complessivamente quindi posso dire che a me è piaciuto abbastanza se dovessi dare un voto da uno a dieci io direi proprio un bel otto e mezzo se lo avete già fumato fatemi sapere cosa ne pensate scrivetelo nei commenti e state pensando di comprarlo una domanda differente scrivete sempre nei commenti e farà piacere rispondere a tutti non perdetevi il prossimo video perché farò una bella unboxing di una bella pifa un brindisi salut per salutarci e anche per oggi è tutto sia paga hasta la prossima amico smokers ciao ciao ciao